Io voglio fare una presentazione particolare, perché per me è un grandissimo onore, io l'ho sempre seguito, voglio presentare un grandissimo artista, sia come cantante, sia come scrittore, ma soprattutto come persona, perché è la persona più umana del mondo. Vorrei chiamare qui sopra il grande Toto Fabiani. Senza togliere merito agli altri artisti, eh? Intentiamoci. Grazie per il grande, buonasera a tutti. Vabbè, io sono qui in veste di amico di Raffaele Modà e ringrazio per avermi dato questa opportunità. Quindi volevo essere presente. Raffaele, ma io ho questo nome Toto Fabiani. Da anni, da anni, vero? Sì, sono anni. Da anni che nel campo, ma quanti anni sono? Sono diversi, saranno quasi 40. Facciamogli un applauso, grande. Grazie. Il signore pure fa 40. 40. Quindi eri... E io non ho una decina in più, quindi automaticamente. E niente, vi ringrazio di essere qua e di avermi ospitato. Io non canto questa sera perché non sto proprio bene di voce, quindi ho voluto presenziare questa serata importante e voglio ringraziare tutti quanti voi per avermi invitato. E questi eventi bellissimi che fate sono per i bambini del Posto di Ponna, a cui mando un augurio speciale che tutto possa risolversi nel meglio. Ok? Grazie ancora. Questo è per te. Grazie, grazie veramente. Contento, grazie a Raffaele Bodà. È un piccolo dono che noi ti lasciamo. Grazie. Per averci onorato della tua presenza. L'onore è mio per essere stato qua. Grazie, grazie ancora. Il grande Toto Fabiani. Ciao, grazie a tutti. Grazie e complimenti a Toto Fabiani.